Lui di 13 settembre, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa occhio ai giornali, la rassegna di Fano TV, il commento alla stampa di oggi che comincia come di consueto con il Santo del Giorno, lo vediamo con l'aiuto della grafica, oggi è San Giovanni Crisostomo, Vescovo e Dottore della Chiesa, l'alba alle 6.44 e il tramonto alle 19.26. Abbiamo ancora una bella estate, almeno per i prossimi giorni, quest'inizio settimana, cielo sereno per quanto riguarda la costa adriatica, un po' di nuvola all'entroterra, le temperature in lieve aumento, domani martedì 14 ancora cielo sereno ovunque con qualche annuvolamento, andiamo a vedere però per curiosità queste temperature, chiaramente al mattino è fresco, diciamo che quando si esce di casa, soprattutto chi esce alle 6, alle 7 del mattino è fresco, però poi vedete durante la giornata le temperature salgono, alle ore 14 le temperature saranno intorno ai 30 gradi, per esempio ad Ascoli Piceno, 28 ad Osimo, 26 a Pesero, la temperatura più bassa alle 2 del pomeriggio è sul Monte Bove Sud, dove sono 16 gradi, però insomma diciamo che il tempo è decisamente ancora estivo. Andiamo a vedere i giornali allora, subito dal Carlino di Pesero, cominciamo dalla prima pagina, chiaramente con il titolo d'apertura, terrore sul bus pesarese ferita, è una 27enne di Pantano, quartiere pesarese, coinvolta nella folle aggressione del somalo che a Rimini ha accoltellato 5 persone, a centro pagina, la fiera che resiste, San Nicola, tiene col 20% di presenza in meno, ma c'è mai contento. Sotto invece lo sport, Alma fuori dalla Coppa, fatali calci di rigore, e poi al brodetto fest premiato Vincenzetti, la migliore moretta, non è made in Fano. Poi i vaccini liberi a muraglia, i numeri tornano a salire e spuntano le donne incinte. E sul Corriere Adriatico, è sempre edizione pesarese, nelle RSA la stretta sui vaccini, verifiche su chi non ha ancora completato il ciclo, nidi e materne, da oggi genitori con il Green Pass, mascherine uscite scaglionate, capienze dei bus e finestre aperte, oggi la guida del rientro a scuola. Poi pesarese aggredita dall'accoltellatore, Rimini il pullman del terrore, Nelle Marche invece, Saltamartini, l'immunità di massa ora è all'85%, questa settimana esaureremo, dice l'assessore regionale della sanità, tutti i prenotati, l'immunità di massa, secondo i nostri virologi, si raggiunge con l'85%, ma abbiamo altre chance da giocare con le cure domiciliari, gli anticorpi monoclonali e i tamponi salivari. Il programma dell'assessore è chiaro, scrive il giornale. Poi dipendenti infedeli, pressing della Lega sul Comune e Marche Multiservizi, affano, assunzione anomala, istanza dei Fratelli d'Italia su Aset, revocate l'avviso, navale foglia, sinergie tra comitati, il caso biodigestore all'Europarlamento. Andiamo nelle pagine interne, allora la cronaca con questa pagina che il Corriere dedica alla vicenda accaduta nella vicina Rimini, Bus del terrore, l'accoltellatore in fuga, questo è il titolo, colpisce anche una giovane pesarese, raggiunta alla gola da un fendente fuori da un locale di Rimini, solo una lieve escoriazione. Si è ritrovata praticamente questa 26enne e questa donna pesarese, giovane pesarese di 27 anni, che era in Romagna per il sabato sera, si è ritrovata sulla stessa via di fuga dell'uomo, quindi non era sull'autobus, era praticamente su un marciapiede, solo che quando questo 26enne si è dato alla fuga con un coltello in mano dove già aveva ferito insomma delle persone, per scansarla durante la fuga ha usato il coltello e quindi l'ha toccata appena insomma sulla gola, così come è successo anche ad un'anziana che era sempre sulla stessa via di fuga, insomma poi è stato catturato e la cronaca più o meno la conosciamo tutti quanti. Andiamo sul resto del Carlino, il somalo ha ferito anche, ha ferito una pesarese, è una 27enne residente a Pantano, l'uomo che aveva consumato cocaina ha incontrato nella sua folle fuga Paola T, questo è il nome della ragazza che è stata ferita, ferendola con il coltello anche se in maniera lieve. La ragazza viene sentita in queste ore dai poliziotti romagnoli e il giornale racconta chi era questo somalo che ha scatenato il putiferio e poteva fare una strage. Racconta di quando è successo, di come è successo, alle 18.50 del pomeriggio su un autobus di linea, l'autobus numero 11, Dula, questo è il cognome, è salito, o il nome, è salito sul mezzo a Riccione dove è ospitato in una struttura della Croce Rossa, poi a Miramare, all'altezza di Rimini Terme, due donne controllore, una di 37 anni e l'altra di 33, gli hanno chiesto il biglietto, lui non ce l'aveva e quindi loro che cosa hanno detto? Hanno detto a questo ragazzo di colore, hanno detto adesso ti dobbiamo fare la multa ed evidentemente questo ha fatto scattare la furia cieca a questo ragazzo somalo che a un certo punto ha preso lo zaino, ha tirato fuori il coltello e ha cominciato a dare da matto. Andiamo sulle pagine di Fano, 19 del Corriere Adriatico, Assunzione anomala per Aset, Fratelli d'Italia adesso revocate l'avviso, funzioni di comunicazione già assegnate a società esterna e unione atipica di mansioni, questo è l'articolo d'apertura di Fano, poi sotto scontro alla rotatoria SUV taglia la strada ad una bici, un ciclista di 47 anni portato dal 118 al pronto soccorso, rilievi della polizia locale, poi a Fano il Brodetto Festival, il Brodetto Fest consacra la moretta, ma il più bravo a prepararla non è un fanese ma un pesarese, Nicola, Nicola Vincenzetti ha vinto il concorso nazionale, tanti interessi al Lido, tanta gente insomma nonostante tutto e quindi insomma questo è. L'assessora Lex, anzi assessore sposa il geometra, rito del sindaco a Caterina Delbianco, corona il suo progetto d'amore, a dicembre sarà anche mamma e quindi facciamo gli auguri anche da parte nostra. doppia festa in comune, per ieri il sindaco di Fano Massimo Seri ha unito in matrimonio la sua ex assessore, assessore a Caterina Delbianco con il geometra Giacomo Caldari, collaboratore dello studio del padre, la cerimonia, la presenza dei genitori, dei parenti e degli amici si è svolta nella sala della concordia del comune ovviamente di Fano. Moretta, regina del Brodetto Fest, nella competizione per la migliore vince, Nicolas Vincenzetti che svela anche la sua formula davvero speciale. La Moretta è non solo un simbolo della fama del passato e anche della fama del futuro, visto che l'attenzione nei suoi confronti è costantemente rinnovata come è avvenuto anche adesso in occasione della diciannovesima edizione del Brodetto Fest. Tra gli ospiti c'era anche Michelangelo Mammoliti, grande attenzione invece anche al vino, Bianchello del Metauro, quindi insomma questo festival al quale c'eravamo anche noi con le nostre telecamere, quindi vi daremo un resoconto, vi faremo vedere anche le immagini, le interviste, non possiamo farvi sentire i sapori e i profumi, ma comunque fidatevi, è stato un bel appuntamento. Mentre cercheremo di raccontarvelo al meglio. Catrina Delbianco ha detto sì al suo Giacomo, questo invece è il resto del Carlino, l'ex assessore della Giunta Seri si è sposata con Rito Civile di fronte al Sindaco, cerimonia molto privata. L'auto che taglia la strada ad un ciclista fanese di 74 anni che dunque resta ferito, l'uomo trasportato al pronto soccorso, l'impatto è avvenuto tra via Bellandra e via Dario Fo. La Fiera di San Nicola a Pesaro chiude con un meno 20% di visitatori ambulanti rassegnati, colpa del Green Pass, dicono, qualcuno la definisce la peggiore edizione degli ultimi anni, non poteva essere altrimenti. Altri, anche perché ci vogliamo fare del male, quindi la colpa non è di nessuno se non della politica. Altri, l'importante era esserci, poi Delenocci pesero parcheggi soddisfatti, un risultato inaspettato, ma questi sono politici per cui non ci crediamo. Ieri altre cinque multate dalla politica locale, assenza di abusivi, eccetto le donne che fanno le treccine, che era uno dei punti forti di questa cosa. Insomma, movì da sciocchi invece a Senigallia, malore davanti agli amici. Ancora un'altra notizia di quelle che siamo qui a raccontarvi ogni lunedì, praticamente. Troppi drink, una quindicenne che finisce all'ospedale, paura a mezzanotte sul lungomare Marconi, multati per ubriachezza i due ragazzini che erano con lui. L'allarme è scattato verso la mezzanotta all'altezza del Civico 13 sul lungomare Marconi. Sempre dalla pagina di Senigallia, shopping a scrocco all'ipercop, coppia presa. I due albanesi erano fuggiti con alimentari e vestiti scoperti dai vigilantes. Movida, minore ubriaco, un ragazzo, non una ragazza, ricoverato. Altri ragazzi, altri due ragazzini di 16 anni sono stati sanzionati perché disturbavano le persone sul lungomare. Settembre dunque non ferma la Movida sulla spiaggia di Velluto, anzi il secondo fine settimana del mese ha visto ancora una volta il lungomare preso d'assalto, complice anche il bel tempo. Adesso invece la pagina di Ancona, pagina 3. Non si può costringere i docenti a vaccinarsi. Io non cedo, farò i tamponi ogni due giorni, la testimonianza di un insegnante anconetano alla manifestazione che c'è stata in piazza Cavour. Una mamma racconta sconsolate, i miei figli hanno rinunciato allo sport. Tanti giovani, tantissimi giovani stanno rinunciando a fare sport. Pensate voi se questa è una cosa ammissibile. Stanno facendo tutto quello che non si dovrebbe fare, ci hanno rinchiusi dentro casa davvero come sorci, quando in realtà bisognava stare fuori all'aria aperta, a prendere un po' di sole anche durante l'inverno. Invece ci hanno rinchiuso come topi per farci ammalare ancora di più. Tutto quello che non si doveva fare lo hanno fatto. E noi dobbiamo fidarci di queste persone. Fidatevi se avete ancora un po' di sale in zucca. Continuate a fidarvi. Intanto, con questa storia del Green Pass, tanti giovani finiranno dentro casa senza fare sport. Senza fare sport. Lasciamoli dentro casa davanti ai cellulari a rimbecillirci. Bravi. Andiamo avanti così. E non è colpa dei genitori, anzi, è colpa come sempre di chi stabilisce queste regole, di chi fa queste regole. Lo Stato italiano. Il virus in frenata, stabile il numero dei ricoveri. Mercoledì il dato potrebbe subire degli scossoni con il rientro in classe dei ragazzi. Da Iesi invece, comune, consiglio senza Green Pass. Iesi, divergenze in maggioranza, basterà un'autocertificazione e il tampone non è obbligatorio. Ovviamente non potrà esserci il pubblico. Mentre da Fabriano, addio a Don Enrico, ex parroco a Piero Zara, Genga è del Profili. E quindi aveva 85 anni, Don Enrico Principi, per tanti anni appunto parroco di queste località che vi ho appena detto. Anche a Iesimo, vida alcolica e rumorosa, vedete proteste e richiesta di controlli. Poi sotto, morto nello schianto, domani l'ultimo saluto a Riccardo Pelati. Lo vedete in questa immagine, sempre da Fabriano, il ricordo di questo 22enne di Campodiegoli, morto venerdì notte in un incidente sulla strada tra Sassoferrato e Fabriano. Siamo alle pagine sportive. Velocemente la Vis sfiora l'impresa. 2-2 contro il Pescara. Va sotto, poi rimonta la Vis con i gol di Cannavò e Rubin, ma viene ripresa nel finale. Dovevamo vincere noi, dice Bianchini. Il primo gol del Pescara era in netto fuorigioco. Il loro portiere si è superato. Poi il Fano, anzi la Fermana. Fermana che perde in casa contro il Montevarchi. Altro flop al Recchioni. Passa il Montevarchi. Fatale il siluro di Gambale nella ripresa su errore della difesa. Poi il Fano. Il Tolentino è glaciale. Fano fuori dalla Coppa. In gol Gigli e Capezzani. Si va ai rigori e i cremisi si qualificano per il primo turno. Dunque Tolentino 5, Fano 4. Questo è il risultato finale. Con questo noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. Vi ricordo oggi è in corso già da ieri il viaggio apostolico di Papa Francesco a Budapest e in Slovacchia. Allora ci sono degli appuntamenti in diretta alle 9 e un quarto. Il primo sempre qui su Fano TV, canale 17. Poi il pomeriggio alle ore 16 sempre in diretta. Noi invece ci rivedremo questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie a tutti.